la nuova collezione dei lego marvel benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi sugari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti benvenuti in questo nuovissimo video e se state anche voi guardando sto video perchè l'avete capito già dal titolo perchè ragazzi oggi andremo a montare uno un pezzo un set lego della nuova collezione dei lego marvel quale l'avete già visto dalla copertina e dal titolo qua sotto esattamente ragazzi questo il lego marvel di ghost rider questo ragazzi è specialissimo specialissimo ragazzi perchè a vederlo così dite vabbè è un set lego figo no è doppiamente doppiamente figo perchè ragazzi in questo set lego girando la confezione potete vedere che ci sono due set diciamo uno è questo qua è il ghost rider match quindi l'armatura di ghost rider e ovviamente non poteva mancare anche la sua motocicletta vediamo se la metto bene che si vede bene la sua motocicletta ti è raga ma guardate quanto è figo e anche il ghost rider quanto è figo ragazzi è fantastico andremo subito a montare ragazzi ma prima di andare a vedere il montaggio ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale attiva la campanella mettere like commentare ho fatto tutte le cose che dovete fare sempre così me compro altri set lego e vi faccio vedere poi poi un giorno un giorno vi farò vedere anche tutta la mia collezione dei set lego marvel e non solo perchè c'ho anche altri set lego della DC vintage quindi poi ve le andrò a far vedere tutti sto iniziando a non avere più spazio per questo il set lego ma ne troveremo se lo troveremo lo creerò quindi andiamo subito a montare questo nuovissimo set lego di ghost rider andiamo subito a montare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.